Cari maturandi, cari ragazzi, domani inizia l'esame di maturità più incredibile che ci saremmo aspettati appena tre mesi fa, stravolto nella sua consolidata ritualità dai noti eventi legati alla pandemia. Questa maturità non sarà come ve l'immaginavate, né come ve l'hanno raccontata fin qui i vostri amici. Gli ultimi mesi hanno messo a dura prova il lavoro vostro e dei vostri insegnanti, ma vi ha probabilmente offerto la possibilità di capire l'importanza delle risorse intellettuali che avete consolidato in questi anni e che certamente vi sono state utili nell'affrontare la tempesta perfetta che ci ha travolti. Un tempo questo era l'esame di maturità. Posso dire comunque che a prescindere dei risultati che conseguirete, certamente ciascuno di voi ha già fatto il suo esame rispettando le regole e compiendo fino in fondo il proprio dovere di studente. Avete pagato un prezzo altissimo ed ora arriva il momento di riappropriarsi del futuro, del vostro progetto di vita personale e per la vostra e nostra comunità umana. La quantità di importanti nozioni che in tempi normali avreste acquisito forse si è assottigliata, ma sono ugualmente sicuro che il metodo di lavoro che nei mesi passati a scuola avete acquisito sarà vostro prezioso alleato nelle prossime sfide che vi attendono. Quello che affronterete nei prossimi giorni è il primo vero appuntamento con l'età adulta, che da sempre coincide con la capacità di assumere comportamenti consapevoli e responsabili. Non sarà sempre facile, ma è questa la vera vita che vi attende. Per questo vi dico di essere sempre entusiasti e appassionati. Non smettete mai di studiare, di essere curiosi, di avere fame di conoscenza. Siate preparati perché qualunque sarà il vostro mestiere abbiate ad esercitarlo con competenza e consapevolezza e soprattutto sempre a servizio del bene comune. Perciò formulando a voi, alle vostre famiglie, gli auguri più sinceri per gli anni a venire, vi dedico l'antica metafora del viaggio e vi invito con Ulisse a scegliere con coraggio ed entusiasmo la rotta del vostro futuro. Augurati che ti attenda un lungo viaggio, dice il poeta. Mantieni alto il tuo pensiero e impara e ancora impara dai sapienti. Fuggite la stupida arroganza, non vi stancate mai di cercare le risposte. Abbiate il coraggio di essere rivoluzionari, persino disobbedienti, quando vi sembrerà che gli ordini violentino la dignità dell'essere umano. Siate come gli alberi che cambiano le foglie, ma non le radici, perché così sarete in grado di lasciare un'impronta destinata a durare nel tempo e a cambiare le cose. Fatelo partendo da ciò che ci unisce. Faccio mio il suggerimento di Liliana Segre. Leggete per conto vostro la prima parte della Costituzione. Fatelo da soli e senza mediazioni. Non potrete non amare quel testo essenziale, potente e unificante. Coltivate quell'unità morale a cui con tanta insistenza ci richiama il Presidente della Repubblica. Datevi una meta ambiziosa. Così facendo non perderete mai la rotta e il vostro viaggio sarà ricco di vita, di esperienza e di importanti soddisfazioni.